spettatrice e spettatori della compagnia buongiorno buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video e benvenuti in questa serie di contenuti che vi proporremo in questi giorni di visioni casalinghe e quarantena prolungata sui nostri canali social facebook e instagram il primo contenitore che abbiamo scelto si chiama anatomia di una scena e all'interno di esso parleremo di grandi scene del passato i grandi autori del passato per parlare appunto dei film degli autori e della grammatica delle immagini il primo film che ho scelto si chiama sabotaggio è di alfred hitchcock siamo nel 1936 hitchcock ha già una lunga carriera alle spalle è già considerato un grande regista ma non ha ancora fatto il salto che gli permetterà poi di realizzare quelli che sono universalmente riconosciuti come i suoi capolavori cioè psycho vertigo e giù di lì non è ancora andato in america siamo ancora nel periodo britannico è uno degli ultimi grandi film del periodo britannico è un film che c'è molto utile per parlare di una delle parole che viene spesso legata al maestro inglese cioè suspense cosa intendiamo quando parliamo di suspense allora prendiamo il problema come una palla da tennis la dividiamo a metà e vediamo queste due metà sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico il punto di vista teorico hitchcock lo spiega in una delle interviste rilasciate a truffo in quello che poi diventerà uno dei libri più belli per i cinefili appassionati ma non solo che il cinema secondo hitchcock appunto realizzato insieme a truffo lui immagina questa scena immagina che due persone stiano parlando amabilmente del più del più e del meno e noi vediamo appunto queste persone che alle 13 e 30 si siedono e cominciano a parlare dopo cinque minuti sotto una delle due persone esplode una bomba quindi il nostro effetto un effetto di sorpresa di shock se nella stessa situazione invece noi avessimo visto due ore prima qualcuno piazzare una bomba sotto una delle due sedie e sapessimo che quella bomba esploderà alle 13 e 45 nel momento in cui noi ci mettiamo a sedere alle 13 e 30 sappiamo che ci sono 15 minuti prima che la bomba esplode quindi avremo 15 minuti di suspense a livello pratico come mette in scena hitchcock questa teoria appunto in sabotaggio e qui arriviamo alla scena della consegna della bomba cosa sappiamo di questa scena sappiamo che il ragazzino sta consegnando a sua insaputa una bomba che dovrà consegnarla entro l'orario stabilito vediamo appunto alle una e tre quarti e quindi lui attraversa la città inconsapevole di portare una bomba sotto braccio e però consapevole di dover arrivare entro l'orario stabilito nel luogo stabilito cosa succede però viene fermato viene fermato dalla polizia viene fermato non perché stia trasportando qualcosa di pericoloso ma perché sta per passare una processione di cavalieri noi sappiamo che lui sta portando una bomba e quindi è lì che viene fuori la suspense e lì che emerge la suspense perché noi sappiamo che da un momento all'altro se il ragazzino dovesse ritardare quel pacco potrebbe esplodere cosa succede lui si distrae chiaramente ci sono dei fattori esterni che concorrono a questo ritardo ma anche lui si distrae appunto guardando i cavalieri che passano ci viene anche ricordato che sta trasportando un ordigno attraverso una sovraimpressione quindi passiamo dal volto del ragazzino al dettaglio poi del pacco che lui sta portando insieme a delle pellicole in questo pacco c'è un marchigennio che sta andando andando in moto che è in moto lo vediamo appunto ora attraverso questa sovraimpressione ma c'è un ulteriore sovraimpressione di un orologio quindi il tempo sta passando il ragazzino sta perdendo tempo e appunto rischia che la bomba li scoppi tra le mani come finirà appunto lo scoprirete solo guardando il film ultimissima cosa visto che spesso si scrive diciamo si utilizza il termine suspense e si utilizza anche male si scrive male suspense si scrive una volta per tutte così